Inaugurata ieri sera ai Filippini di Agrigento la mostra natale con l'arte femminile tra pensiero e manualità, iniziativa voluta dalla terza commissione consigliare del comune di Agrigento, formata dai consiglieri comunali Vita, Pisano, Patti, Allongi e preseduta da Cinzia Puleri. Un periodo in cui le donne vengono nominate per lo più, per questi fatti cruenti, abbiamo pensato noi della terza commissione consigliare di valorizzare, di evidenziare l'intelligenza delle donne e la loro sensibilità soprattutto in questi lavori dove possiamo notare proprio la loro particolare sensibilità, il loro amore per le cose e tutto quello che fanno. L'iniziativa ha visto la partecipazione di numerosi artisti che hanno esposto le loro creazioni artigianali, Margherita Truppiano, pittrice, Pina Vita Curto, l'iricami, Letizia Lipuma, scultrice, Pamela Bordenga, ceramista, le volontarie della San Vincenzo per il ricami. La Sicilia ha un ricco patrimonio culturale con opere veramente artigianali, di fattura eccelsa, quindi mi è piaciuto recuperare questi vecchi mestieri, queste vecchie tecniche che possono servire anche come bacino economico per creare possibilità di lavoro per i giovani. Alcuni dei nostri articoli che sono creazioni tutti esclusivamente artigianali, sia la pittura che la creazione della gioielleria. Facciamo creazioni, riparazioni e stiamo tentando di rivalutare un pochettino l'artigianato che ad aggrigendo è sepolto. La mia attività appunto è modellare continuamente appunto con l'argilla e creiamo la ceramica appunto artigianale, la tradizionale. Noi abbiamo un negozio in via Pirandello, un laboratorio, dove abbiamo laboratorio ed esposizione. Oltre alla ceramica tradizionale facciamo anche, ci siamo ora specializzati sulla ceramica moderna e stiamo comunque cambiando un pochettino il genere, facendo anche delle collane, dei bracciali e degli anelli per cercare di avere un'attrazione anche verso i giovani. Qui ho portato una sintesi un pochino di quelle che sono le mie opere artistiche, delle tecniche che utilizzo, quali gessi, bronzi, resine, comunque è una produzione abbastanza vasta e la tematica mia preferita che è quella della donna, visto che il tema di questa manifestazione era tutto al femminile mi è sembrato opportuno portare queste opere. Noi abbiamo pensato appunto di istituire questi corsi di ricamo gratuitamente e autogestiti perché non abbiamo alcun contributo da parte degli enti pubblici per promuovere delle giovani donne che vogliono imparare l'anticarte del ricamo. Al di là di quella che è la mia espressione artistica in questo contesto, portato dei quadri, comunque sono degli astratti ma ciò che voglio sottolineare è la valenza di questa iniziativa perché raccoglie quelle che sono le espressioni artistiche della nostra terra e dimostra che questa terra può proprio puntare sui propri uomini per ripartire. Lo fa l'amministrazione comunale intuendo questo e mettendo in luce quelle che sono le risorse della Sicilia e di Agrigento. Credo che sia veramente lodevole.